Nell'ambito di controlli straordinari sul territorio da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagna di Trani, quattro persone sono state arrestate in due distinte operazioni, tre per spaccio di droga e un'altra per inosservanza della sorveglianza speciale. I primi tre arresti operati nell'ambito di una certa attività di spaccio nel comune di Corato, cui i militari, con l'aiuto di un'unità cinofila del vicino distaccamento di Modugno e sospettiti da un insolito via vai, hanno deciso di perquisire un'abitazione dove risiede un arrestato domiciliare. L'effetto sorpresa della presenza del pastore tedesco specializzato nella ricerca di stupefacenti ha lasciato a bocca aperte i delinquenti. Inutili sono stati raggiri, tentati da parte di uno degli indagati, in particolare dalla madre dell'arrestato, che simulando di essere sprovvista di indumenti ha cercato di allontanarsi, nascondendo in camera da letto una boccettina in vetro sotto un guanciale. All'interno della stessa i militari hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina e della sostanza da taglio. Nello stesso frangente, da un altro appartamento, una giovane, figlia della donna, cortasi dei controlli in atto, ha lanciato dal balcone due bilancini elettronici del materiale per il confezionamento e della sostanza stupefacente confezionata in due cipollotti. Nemmeno quest'azione sfuggite i militari, che rimasti anche in osservazione della strada, hanno notato tutta la scena recuperando quanto finito sul salciato. Approfondita la perquisizione domiciliare, anche nel secondo appartamento, gli operanti hanno recuperato in definitiva 14 grammi di cocaina, 7 di hashish e 40 grammi di presunta sostanza da taglio del tipo mannite, oltre che copioso materiale per il confezionamento. Le operazioni non si sono tuttavia concluse. Sulla via di ritorno, verso il comando della compagnia, in territorio di Trani, i mezzi dell'arma hanno incrociato un 36enne sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a bordo di un motociclo. Nonostante fossero impegnati in un'altra attività, immediatamente i carabinieri hanno inseguito il malvivente, che in base alle prescrizioni imposte, gli non avrebbe potuto guidare mezzi a motore. L'uomo, riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, dopo aver abbandonato il mezzo per strada, è stato individuato nel cuore della notte, presso la propria abitazione e tratto in arresto per inosservanza della sorveglianza speciale.